Musica Io conoscevo Massimo Ciancimino da diversi anni, da quando lui aveva cominciato a barare alle necessità del padre, quando era sotto processo, quando si trovava al soggiorno obbligato. Aveva avuto sempre un buon rapporto, nel senso che Massimo, rispetto a tutti gli altri fratelli, che sono cinque in tutto, aveva sempre avuto un rapporto aperto nei confronti dei giornalisti e dei giornali, comprendendo forse l'importanza della comunicazione in quella che era la vicenda di suo padre. Ultimamente era finito ancora nei guai, sotto processo, accusato di riciclaggio, siamo nel 2008, e venne a trovarmi nella redazione della stampa a Roma e mi raccontò una serie di cose che erano cose abbastanza gravi, perché sì, c'era la sua storia privata, c'era la sua storia processuale, c'erano le cose che gli aveva detto suo padre, ma c'erano anche il racconto di vicende che erano dei veri e propri reati, per cui c'era da superare questo grave problema, cioè lui non poteva pensare di raccontare il giornale e basta. Secondo me era necessario che prima lui si liberasse dal punto di vista proprio dell'incombenza processuale, doveva andare ai magistrati a raccontare quello che suo padre gli aveva detto nel corso degli ultimi vent'anni, praticamente della sua vita. E così gli dissi, e gli dissi che non era pensabile il racconto se prima le stesse cose non fossero state messe a verbale e valutate dalla magistratura. Perché ho deciso di parlare? Perché ho deciso di collaborare soprattutto? Perché credo la più importante decisione, oltre a quella di iniziare a parlare, è decidere di collaborare con le istituzioni. Uno, come ho sempre detto, nessuno mi aveva chiamato, nessuno mi aveva mai posto le domande giuste e anche forse sicuramente la mia nuova veste familiare, quella di padre, mi imponeva anche di non più rispettare certe regole, ma andare in conto a quelle che erano le sacre regole di un padre di famiglia. Vorrei trasmettere un altro messaggio di quelli che ho ricevuto io, vorrei far vivere a mio figlio un altro tipo di vita di quella che ho vissuto io. Credo che questi mi sembrano già dei buoni motivi per incominciare a parlare. Io credo che Vito Ciancimino sia stato il primo esempio di politico che abbia avuto un rapporto diretto con Cosa Nostra. Per quello che è il rapporto con mio padre, basta leggere le prime parole, le prime pagine del libro per capire che non era un rapporto. Una delle frasi che troverete nel libro è proprio quella che tuttora quando vado al cimitero ho difficoltà a ricordare, a attaccarmi a un bel ricordo, a una parola affettuosa, a un bel gesto di mio padre e dei miei confronti. Se noi pensiamo che nel 1971-72 a casa del sindaco di Palermo, di quello che era stato il sindaco di Palermo e per lunghi anni assessore di assessorati importanti come i lavori pubblici e l'urbanistica, a casa di Vito Ciancimino praticamente stava Bernardo Provenzano ormai ospite fisso e amico proprio quasi di famiglia, come lo ricorda lo stesso Massimo Ciancimino. Ma poi veniva di tutto, veniva Luciano Liggio, venivano Stefano Bontade e Mimmo Teresi, tutti personaggi che poi col maxiprocesso di Falcone avremmo imparato a conoscere meglio, ma che all'epoca erano considerati degli imprenditori e basta e che invece col sindaco stabilivano le linee di tendenza, le scelte economiche, le scelte sociali di Palermo e della Sicilia. Tutto questo non era poi limitato alla regione siciliana e alla città di Palermo, aveva una sua ricaduta nazionale, perché da lì venivano eletti dei deputati che poi andavano in Parlamento, dei senatori che facevano la politica nazionale. La pressa di coscienza, il momento in cui dal barbiere accompagno mio padre dalla villa dove andavamo in villeggiatura a Baida, accompagno mio padre da questo signor Lopiccolo, un istituzione, un barbiere di fronte a quella che era la nostra residenza simbolica, quel famoso Biasciuti, mi accorgo che quel mitico familiare, quel personaggio tanto familiare, Loverde, non altro che è, che è il Bernardo Provenzano, che è la polizia di mezzo mondo, se non di tutto il mondo, ricerca. Ovviamente nel momento in cui chiedo a mio padre spiegazione, più che altro se il mio raffronto corrispondeva a quelle che erano le mie sensazioni, le mie deduzioni, mi risponde con quella famosa frase che ancora oggi mi porta tante volte quando sono interrogato a non neanche nominarlo, ma dire sempre il signor Loverde, tanta è stata la mia paura, ricordati che da queste persone non riesco a proteggerti neanche io. Il 6 gennaio del 1980, per Santi Mattarella viene ucciso ed è un delitto strano, è un delitto atipico, è un delitto ancora indecifrato per alcuni versi, perché sì, si intravede, si riconosce la mano di Cosa Nostra in questo omicidio, ma sul movente e sulle motivazioni che lo provocano ci sono delle ipotesi diverse. La lettura che dà mio padre dell'omicidio Mattarella è una lettura che è qualcosa che la mafia, sì, la mafia valla, ma c'è un'altra entità, incomincia ad affiorare una volontà terza, è la prima volta che incominciano a farsi avanti quelli che sono altri interessi, altri interessi dove mio padre già da tempo era stato chiamato a rispondere in occasione di quello che era stato anche il golpe del borghese, per cui questi interessi sempre più prestanti e sempre più presenti in quella che era la vita di ogni giorno, la vita politica, economica, la vita a qualsiasi livello veniva condizionata da questi elementi chiamiamo romani, per romani intendo proprio personaggi legati alle istituzioni. Per la prima volta quelle presenze assumono una valenza importante nel momento in cui secondo mio padre danno un avallo o addirittura ne chiedono l'esecuzione di Mattarella. L'altro omicidio importante è quello dell'ex sindaco Salvo Lima, perché è importante, perché quello anche a detta di quelli che hanno fatto le indagini, cioè degli esperti, rappresenta la chiusura di un ciclo, di un ciclo proprio per cancellare il passato nella prospettiva di cercare, da parte di Cosa Nostra, di cercare dei nuovi agganci e dei nuovi referenti politici che possano risolvere il vero problema di Cosa Nostra e cioè le condanne definitive all'ergastolo che erano state combinate all'intera cupola, stiamo parlando di 19 ergastoli, alla conclusione in Cassazione del primo grande maxiprocesso contro la mafia, il processo istruito da Giovanni Falcone. Per la prima volta dopo l'omicidio Lima, mio padre incontrandolo verde si rende conto che non c'è più razionalità, c'è una razionalità, c'è un ben piano stabilito, una strategia, tanti la chiamano strategia della detenzione. Mio padre prende visione di questa strategia ed è la prima volta che realmente ha paura, ha paura perché diceva il momento in cui Lima era riuscito a ottenere un aggancio diretto con la procura, nel momento in cui c'è questa rottura a cosa si vuole mirare, in quel momento mio padre percepisce che quella famosa presenza romana diventa sempre più ingombrante, per romana intendo sempre personaggi legati al mondo delle istituzioni, tanto ingombrante da condizionare e da programmare uno come Rina in una serie di micidi e di eventi che poi caratterizzano quella che ormai è tristemente conosciuta come gli anni delle stragi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.